Ci siamo lasciati qua, la tazzina col maglioncino, poi rimane così se leviamo il maglioncino, 6,95 euro. Poi qui abbiamo dei sottopiatti, dei porta posate, porta candela. Qui ci mettiamo la candelina e si illumina, questo lo mettiamo intorno all'albero di Natale, delle cosine da mettere sull'albero di Natale, delle ciabattine da uomo, pigiama da uomo, camicia da notte in pile, le ciabattine, i calzini li ho presi nella vecchia edizione e devo dire ragazze che hanno una morbidezza infinita, non è detto che prenda anche questi. Già nelle confezioni natalizie i bijoux, il calendario natalizio bellissimo con tutti gli orecchini, bello bello da regalare, guardate questo, coi ciondoli, l'orologio, robina da ometto, far away io l'ho finito ragazze, l'ho finito far away, volevo finire un po' più profumi prima di comprarne altri, questi mi ispirano da regalare, però non lo so se lo riprenderò subito, aspetterò, certo che con le offerte natalizie probabilmente le solite cose, trovo delle confezioni più vantaggiose. non fate caso a quello che sentite di là perché quando si ha una madre un po' pazza che gioca col cane si sentono queste cose qua, ma io lo dico, vi dico, mamma guarda che faccio un video, se puoi evitare di farti sentire, ah sì sì perché poi te lo faccio cancellare, col cavolo che gli dico che si sentiva la voce, se no questa me lo rifarò fare, no 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 no, già sono qui che vado alla veloce, che ho fifa che non me lo carichi, ah questo mi piace, una bella C di Cristiana, questa ce l'ho, l'ho tenuta impacchettata perché non so se magari regalarla o cosa, è ancora lì, questo ce l'ho è bellissimo quando si bagna lì cambia colore, questa mi piace tantissimo, tantissimo, questo penso che la regalerò alla mia collega perché anche a lei piace il leopardato, quindi stamattina intanto gli faccio vedere i miei pantaloni e se se li vuole provare almeno perché è magretta anche lei, meno sminchiata di me perché lei, vabbè, porterà una quarta di reggiseno, io invece porto una seconda, vabbè ma mi direte voi cosa ci frega a noi, avete ragione, ma io parlo, io parlo, questo è vecchio, non li hanno ancora fatti fuori, a me c'ho man, stamattina c'ho sta canzone in testa, vi capita mai di alzarvi dal letto, avere una canzone in testa e portarvela tutto il giorno? a me sì, Parigi, per me è troppo questo, però le federe sono carine, mi piacciono, ci sono, sì, le offerte friday, oh, vi faccio venire il mal di mare? spero di no, bijou, 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 che tutti ne parlano bene, dicono che sono veramente belli i bijou di Avon, io non ho proprio l'abitudine di portare bijou, non porto molte cose addosso, io quando ho un orologio, due anellini, la collana e gli orecchini sono a posto, mi sembra già abbastanza così, qua ho altre offerte, altre offerte, pigiamini, bimbini, per i bimbini, queste le voglio prendere a mia nipote, se mi dicono che il numero A di scarpa, una carta per i capelli, alla vaniglia e pera, questa deve essere una profumazione molto invernale, Sara mia, io amo le profumazioni invernali, tutte le offertine, scrivete pure se ho fatto male il video, se datemi dei consigli, perché mi rendo conto che sto andando un po' alla veloce, ma siccome adesso vado e lo pubblico mentre sono per strada, mi dispiacerebbe mi dicesse se non lo puoi pubblicare, questo lo vorrei provare, io sono un po' impedita a dare l'eyeliner, volevo provare qualcosa di più semplice, provare, perché poi, ah qui abbiamo le offertine, un euro potete prendere lo shampoo, la lozione corpo, i fiori di ciliegio, le pinzette, poi a due euro c'è questa roba qua, e da 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 da, guardate cinque euro, cinque euro non ce lo vogliamo prendere, il silky soft mask, io me lo prendo, è mio, poi due sieri, questi qua sono buonissimi, sono quelli all'olio d'argan, sono quelli che mi piacciono di più, e qui dietro gli smaltini color trend a un euro e cinquanta, benissimo, questi qua sono invece i miei pantaloni leopardati, abbinati con una maglia nera ovviamente, e sono molto molto rigidi, diciamo che disegnano molto la silhouette, comunque poi ve li farò vedere meglio, e metterò anche delle foto sul canale di Lori Armellino, presentatrice Avon, ciao raga!